Che succede se un agente immobiliare un po' disinvolto affitta lo stesso appartamento a quattro ragazze? E se queste ragazze ti fidano di vendicarsi? State a vedere! Io sono Diego, responsabile dell'immobiliare Durazzo. Certo, quattro donne e un bagno è un grande problema, lo so. Ah, dimenticavo! Quanto mi è gusto la Spagna! Olli! Io sono Carla e faccio la PR, sempre impegnata tra feste, eventi, mega eventi. Insomma, quanto c'ho da fare! Io sono Giulia e sono un'esperta di astrologia. Con Saturno e Giove risolvo ogni problema e sono anche un'esperta di erbe medicinali. E vi pare poco? Io sono Sofia, sono laureata in filosofia e religioni orientali e sono un'inguaribile romantica. Infatti scrivo poesie che non legge mai nessuno. Io sono azzurra, faccio la guida turistica, sempre in giro per il mondo, tra mille avventure, di tutti i tipi. Io sono Adolfo, il custode e manutentore del palazzo. Oh, non fai adiate con me, io c'entro mica niente, eh! Eh, guardate un po' che cosa succede invece. Non farti sfuggire questo appartamento, è un'occasione vera e propria. Va bene, va bene, lo prendo. E magari vuol dire che se mi troverò da quelle parti mi offrirai un caffè, bellezza mia. Eh sì, ma solo se c'è un bar nei paraggi. Guarda, li sto facendo fare un grosso affare. Sì, in effetti l'offerta è interessante. Magari una di queste sere mi inviti a cena, bellezza mia. Ricordati, immobiliare tu razzo e non diventi pazzo. E mi ha detto pure bene quella rima. Avete capito come stanno le cose? Sto paravento ci ha dato una chiave per una, ci ha fregato tutte. Secondo me queste chiavi le fa col copia e incolla. E noi ci dobbiamo vindicare, anzi, ci dobbiamo far ridare tutti i soldi. Sapete che cosa facciamo? Lo aspettiamo all'uscita dell'agenzia e lo prendiamo ad ombrellate in testa. Non esageriamo, magari si era distratto, poverino. Ragazzi, abbiamo gli astri con noi. Giove in trigono e Marta in cuspide. Eh, qua l'unico che ce l'ha messa in cuspide è quel delinquente dell'agenzia. Hai capito che ti combina quel paracolo di Diego? Eh? E quelle matte li dicano pure per andare in bagno. E a me mi tocca riparare il flessibile della doccia. Ragazzi, il bagno è libero! Eh no, sto andando io a truccarmi, eh? Perché oggi è il primo turno, tocca a me! E io devo uscire presto, datemi la precedenza! Eh no! 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 Con la commedia brillante Quattro donne e un bagno! Grazie! Collegiate brillante